Una citazione di Umberto Eco recita così Credo che l'uomo colto sia colui che sa dove cercare l'informazione di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno. Quindi abbiamo capito come sia importante mettere a disposizione dei nostri clienti le informazioni giuste e abbiamo deciso di farlo con lo storytelling perché è una maniera efficace di rendere le informazioni facilmente comprensibili e memorizzabili e quindi facilmente reperibili quando ne abbiamo bisogno. Per renderle le nostre storie più efficaci e più adatte ad essere condivise Jonah Berger nel suo libro Contagious ci offre 5 preziosi elementi di cui dovrebbero essere composte le nostre storie. Abbiamo visto il primo che è la valuta sociale, vi il secondo che vediamo adesso sono le emozioni e poi ci saranno i segnalibri, il pubblico e l'altruismo. Sulle emozioni possiamo senz'altro agire con diverse leve, bisogna però fare alcune distinzioni. Ci sono quattro tipi di emozioni. Se noi costruiamo una tabellina possiamo mettere sull'asse orizzontale le emozioni attivanti e quelle disattivanti e su quello verticale le emozioni positive e le emozioni negative. Ci possono essere ovviamente delle emozioni attivanti positive o negative, disattivanti positive o negative. Per emozione attivante intendiamo un'emozione che quando vissuta innesca nel nostro corpo, nel nostro organismo, delle reazioni che ci rendono pronti ad agire. Delle emozioni attivanti positive possono essere l'eccitazione, il divertimento, la meraviglia, lo stupore. Se io mi diverto mentre faccio qualcosa il mio corpo è pronto a continuare e farà ancora di più. Delle emozioni invece attivanti ma negative sono l'ansietà o la rabbia. Se io vedo qualcosa che mi fa arrabbiare voglio reagire, quindi mi attivo, il mio corpo si attiva, però è un'emozione negativa, cioè non mi fa stare bene. Se invece andiamo a vedere le emozioni disattivanti troviamo ad esempio la tristezza, che è un'emozione disattivante negativa, se io sono triste e non ho voglia di fare nulla, allo stesso modo può essere disattivante anche un'emozione positiva come ad esempio l'appagamento. Se io mi sento appagato della mia condizione attuale, di quello che ho, non sono motivato, non mi attivo per migliorare la mia condizione, per ricercare una nuova emozione. In comunicazione bisogna cercare di fare leva piuttosto su delle emozioni attivanti. Da qui vediamo come certe categorie puntino su delle emozioni attivanti negative, come ad esempio i politici, che puntano spesso sulla rabbia e sull'ansietà per attirare like, condivisioni e voti, oppure, come fanno molte aziende, puntare sullo stupore, sulla meraviglia, l'eccitazione, il divertimento, quindi emozioni attivanti ma positive, perché comunque il nostro prodotto, la nostra azienda, il nostro servizio, lo vogliamo associare a qualcosa di positivo piuttosto che a qualcosa di negativo. Come ad esempio gli spot della Nike. Si vedono pochissimi prodotti negli spot Nike che preferisce di gran lunga mettersi in gioco con delle emozioni, trasmettendo divertimento, eccitazione, stupore, meraviglia, determinazione. Gli spot della Nike di solito sono delle pubblicità allo sport to court, non tanto alla maglietta, alle scarpe o alla fascia da tennis, ma più che altro allo sport in quanto tale. E proprio facendo leva su delle emozioni positive, guardando uno sport Nike, ci viene voglia di metterci le scarpe ed andare a correre.